Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale, oggi è 29 dicembre 22 Com'è la sabbia? Fredda, fresca Che spettacolo È incredibile questo posto qui È iniziata benissimo direi la giornata di oggi Cammelli davanti, cammelli a sinistra Prova a toccare l'acqua, ci vedi un po' com'è? Sì, fa caldo, non volesse, calda Secondo noi non... Effettivamente è... E non per i cammelli per tra Siamo nel viale che ci porterà alla porta del deserto Duse, la porta del deserto Fabio, da qui si entra nel deserto Da una porta c'è il bagno Dove c'è Cinzia adesso, qua dove c'è tutto il resto E questa è la camera C'è? Arafatti ci offre un tè ragazzi Per termine qui a Chepili in realtà è stata più una scelta di opportunismo Che... Quello che vi dicevo... Dispersi anche tra le montagne Ragazzi qua arde il fuoco per il fresco Guardate qui La quota Couscous Couscous Questa? Bricka Bricka Stavate, non faccio scaldare C'è con un tè Tè alla menta Ciao Al prossimo video Ciao Ciao Grazie.